C'è un campeggio nelle vicinanze. Is hot water included in the price? L'acqua calda è compresa nel prezzo? Do you have an exterior bigger room? Avete una camera esterna più grande? Do you have any vacancies? Avete posti liberi? Quanto costa per persona per notte in tenda roulotte? La stanza è troppo... Possiamo noleggiare una tenda bungalow? Can you call a taxi for me? Mi può chiamare un taxi? I think there is a mistake. Penso che ci sia un errore. Can I have my keys? Posso avere le mie chiavi? Is there an electrical socket I can use? C'è una presa della corrente? Can I use the internet? Laundry? Telephone? Posso usare internet, la lavanderia, il telefono? Is it possible to camp here? E' possibile fare campeggio qui? I had a g- I had a g- I had a g- I had a g- I had e,